GIOCHI ESTAVA A TUTTI RAGAZI RACAZI BELMENETI A QUESTO NUVO VIDEO Siamo su OVOGEOGIE Oggi ragazzi ci sono I GIOCHI ESTIVI Ragazzi qualcosa di spettacolare I giochi estivi Mamma mia ci vuole davvero tanto Ora ragazzi abbiamo un forziere disponibile Ed è il momento di usarlo Vabbè abbiamo questo nuovo forziere Non vedo di vedere Che sorpresi ci può dare Dai Dai vediamo cosa ci da C'è una viola Un'emote Vediamo cosa è Ci sta ci sta ci sta Molto bella molto bella Già abbiamo un'immagine Mettiamola ragazzi mettiamola Poverino Questa è davvero bella Scusarmi lì Io ho abbastanza crediti Da shopparmi una skin sportiva Io voglio Shopparmi la skin Questa skin Le giochi estivi Nikon Dai shoppiamocela Me la voglio shoppare questa qua E ce la mettiamo E ce la mettiamo Sì E come se ce la mettiamo Ora invitiamo un po' di persone Ragazzi È il momento di fare un po' di illusio bolle Ok Dì già Dì già C'è il momento di fare un po' di illusio C'è il momento di fare un po' di illusio Oh cavolo No Hanno fatto goal Mannaggia C'è tipo I replay Dell'azione Spettacolare Hanno fatto goal Non ci credo Questo dov'è Ok No È mia No Dai 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 È velocissimo Oddio Oh mamma Lo sei velocissimo Eh Lo penso pure io Che si mette male Dai Cioè Se qualcuno mi spiega Come si gioca l'ucio bolle Dai Ce la faccio È come calcio È come fifa Però il problema è che qua Sei illusio Ecco Se qualcuno è bravo con lui Se sa come si fa l'ucio bolle Allora Sono felice di imparare Vai no Eh va Che cavolo No 30 secondi Non abbiamo fatto nemmeno un punto Dai No no Aia Aia Pesantissimo Questo Pesantissimo Aia Però era pesante Era pesante Dai 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 Mamma mia Questo sì che è risultato pesantissimo 4 a 0 Dai Dai No E' a portare a votare Signori No Ma Mare Ma Mare Ma che cacchio Ma che cacchio Ma sul serio Abbiamo perso Tanto si capiva Sconfitta Pesante E' stato pesante Questo E' davvero pesante E' stato Almeno Almeno Questo è un bomb C'era C'era Coutinho Coutinho Era Ragazzi Ragazzi Il video si può anche concludere qua Spero che vi sia piaciuto Iscrivetevi al canale Se non vi è già fatto Commentate Mettete like E noi ci vediamo Al prossimo video Bella ragazzi Ciao 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 Ciao